Un discorso alla nazione improntante televisivo. Il presidente Barack Obama deve difendere la sua riforma della sanità davanti al Congresso, che potrebbe riprendere i lavori sulla bozza del presidente della Commissione Finanze, il senatore democratico Max Bokus. L'ala liberal del partito, rappresentata dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, dichiara che non firmerà una legge che non preveda l'opzione di un'assicurazione sanitaria pubblica in concorrenza con quelle private garantita dal governo. Per farlo sarebbe necessario prevedere più tasse e una maggiore copertura finanziaria, cosa che i Democrats conservatori considerano inaccettabile. La proposta bipartisan di Bokus, che recupererebbe alla causa anche i voti repubblicani, contiene un'assicurazione a basso costo fornita dalle cooperative per garantire un'assistenza sanitaria di base ai 47 milioni di americani che normalmente non possono permettersela. Obama in questo momento è chiamato a fare quello che, nonostante i sondaggi, ha dimostrato di saper fare meglio, convincere gli americani che il cambiamento sarà positivo ed evitare gli attacchi dei repubblicani su un progetto che rappresenta la sua vera scommessa politica.